è solo quello che ciao fedelica guarda se no sai che posti puoi fare ti vendi dei clou ci compriamo destiny e andiamo a sparare a paolo apposto che potrebbe essere un'altra idea facciamo forzo di me nexus ha detto ok prior è tornato ciao ciao c'è a fai aeree riniti il terreno milano il cazzo no, 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 un gol londonamente paremmo il maiale speck dimmi, 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 dimmi di messaggio me l'era quasi andato, forco di me l'era quasi andato sto giro ah, oddio, vedi lì eh, option, pausa eh, qua ci manca lo strumento essenziale per vincere queste partite il coach class ho qua le nocellate le stronzate che mi chiamano questo, un vaffanculo perché sì, non sono stato azzurro di sci io ancora non ho capito questa storia di azzurro di sci cazzo, Paolo, ma com'è se è così mongoloide? non l'ha ancora capita vai su YouTube, scrivi azzurro di sci senti il pezzo e capirai ogni tanto vanno che non già arrivi il pezzo dai, diteglielo ogni tanto mi viene il dubbio che ci sei piuttosto che ci fai no, ma, che ne so hai detto Federica che ti vuole bene? se lo dicevo non ho mai avuto voglia di andare a cercarlo fai male ma che troppo forte di corpo a corpo l'ho ucciso io comunque perché mi ha sbloccato la missione ma se sei arrivato mo', sei sempre in ritardo non è colpa tua sei in ritardo però le battute mi vengono si dovrebbe denunciare quando fai le battute questo invece è più in offesa, vieni eh io non so, mi battimo più in offesa noi uccideremo ah, che c***o, solo se le battute vengono le battute vengono no, Mauro, tu non lo puoi capire questo ma io ti menerei solo perché vieni a doppio senso eh, ma devi capire perché l'ho fatto aspetta, è proprio schifo devi capire perché oh, c***o fa un c***o, dovete tenere il 55 ah, c'erano Secchini e c'erano i Drax ah, e io volevo andare di porta a porta verso tutto eh, ce l'ho apposta Pryor scatto e su, cara io l'ho anche urlato cioè il suono libero a quel punto ho corso cioè sta c***o si parla con una pagnotta no, che c***o è chiamato c'è il suono, già seconda e sei, seconda e sei seconda e sei azzurra di sci anche tu si, è una medaglia da campione d'Italia, vero? ma è forte i colleghi dove ha giocato quella allenatore? Boise State sì, è un Division One sì sono tornato a la linea dopo questo gioco per il primo gioco Frank Gore è in l'occhio in l'occhio handoff made Branch è in su il gioco il gioco questo è un'esperienza questo è un'esperienza è un'esperienza è un'esperienza è un'esperienza è un'esperienza ora il suo gioco ha tre maghi la gioco si, si, è un'esperienza qui la prima volta le partite le partite le partite questo è un gioco grande ai buon balletto grande ai seconda qua, dopo questo gioco play right back to him one more time he's tackled beyond the markers it's a first down or day was able to get the football war good job that time finding his way and picking up you know what a good job by the excellent planning and awesome execution new set of downs now after picking up the first on the ground or is it the backfield it's yeah it's the end of the day is it it's a half a half I'll be in the middle of the day what a joke I want to go to the ball but I don't want to go ahead and I'm gay ma non con chi si, con Sara se chi si sembra discarica per i rifiuti speciali si ma se gli fiasco l'amore è cieco eh si ma l'olfatto è intatto Emanue meglio di scusa Emanue sai che mi ho indicato Scusa allora io non parlo più però chiedi a tu chi vi piace a Paolo? Oh Federica, Federica me la dio al microfono non è che poi gli faccio il riporto Dico che a S.C.S. va bene pure uno alla fine può essere interessante ma a Puzza, proprio no Ok Infatti non è vero Emanuele che si inventa le cose Poi l'ho detto, ti abbiamo Vieni, vieni, ci vieni in classe, vieni eh Oddio vieni, vieni Ciao Paolo Noi ti vogliamo bene lo stesso se ti piacciono certe cose Certo c'è la Sara che si lava è un atleta ed è più grande di te Ma che co? No, Paolo già No, Paolo c'è dei problemi che già se lo fa sbattendo gli spogliatoi da altri suoi figuri No, non gli hanno messo il culo Ed è sempre esagerato Emanuele No, non gli hanno messo il culo Lo hanno frustato con l'uccello Ma poi allora non è più divertente No, Paolo sei è un coglione perché lui era capitato del party e lui poteva cacciarmi Vabbè, io sono sicuro la cosa, Emanuele è che se Mattiasi gli azzarda glielo tagliano là Dopo poi l'abbiamo fatto a pezzi per sta storia Pure lui non l'avrei raccontato apposto Vabbè, l'avrei dei suoi tutti cioè che lui non lo raccontava cazzo di differenza fa Io non l'ho visto andamela perché chi ne ha detto che cosa è questo Ah, cazzo, ferma Greg Fadden. Ha messo il gioco più bello dell'anno, Mauro. Eh, lo so, proprio gli schifo, ma che cazzo stia a fare, rientra. Se ne dici, tu rientra. No, cazzo, fallo io. Bravo perché ti sei venutato, bravo, così, va. No, è fredda, va bene lo stesso, non ti preoccupa. Poi l'ho uscito perché sono a piove il culo. Per la storia che il mattino gliel'ha poggiato al beretano. Non zastare lo scherzo. Allora, praticamente, mo vi spiego bene la storia. Stavo dentro la doccia con questo, con la sua nostra. E questo gliel'ha stracciato al culo. E il palo non si è ingrattato. Cioè, non li ha menato, vogliamo. Voi lo durate di nello spogliatore della senior, sta cosa. Vedi che succedeva. Glielo staccavano e glielo appendevano alla porta. Gli ha detto solo che cazzo fai. Ho detto a voler postura per il civile. Oh, non gli arrivano anche i messaggi su WhatsApp a quel che... Vieni detto. Ma lo visualizzate i messaggi di WhatsApp? No. La cosa è stata un joule. La cosa è stato dell'anno. Now la defensa è in una situazione. ... ... ... ground game on first down bringing up a second offense lines up here is going to secure the handoff and he's tackled just two yards short of a first the first corner is behind us and we'll step aside as you watch the nfl on the sport ma the nfl on the sport the nfl on the sport the nfl on the sport back here in this low scoring affair now third and short following the run right now is in the backfield the second quarter is underway with this snap noo che ha mollato sto coglione il pallone moore is going to take this one from the 14th willis is there that time for the tackle first down offense readying for the snap the other ball behind his quarterback as the single back is going to be in a really good route runner and running these drag routes across the field this is a molly the quarterback will take care of that first down here after the completion the raiders come out in the pistol here's the here down to the end up the middle here bowman on the stop the job by the defense they stop the first down play that time by the offense and now they have a good situation after running it it's second down the 49ers with two extra defensive backs in the dime to the ground searching for space to the right on the way third down plenty of defensive backs out on the field for this one from the shotgun throw to the left this pass is incomplete that was thrown right into double coverage man the quarterbacks and coaches his teammates everybody loves to see a player give that type of effort how about the receiver just going all out to make the catch doesn't quite get there but the effort is outstanding I have written this problem good no I have written this game I am playing did you have treponed out I have switched on this game yeah, I have no response I have no response I don't, I have no response I have no response I have no response no margin for error here with the offense sì ma ce l'ha stessa così ma rientra e mi diceva no ok ma l'ha visto ok ma l'ha visto no cazzo l'ha preso quello no numero di crabtree ok ok Appare l'e-defez. Prieri is able to show off the footwork. Wow, what a good job. Look at those feet. Like a dancer. Gets himself in very good position to throw the football. The offense is set at the line for the first down after that completion. Offense lines up here. He's got the catch. and now it will be on the other side of the 50 after this play now when you get a couple first downs it just gives you such great confidence it makes everybody relax ah Marcia, state a base goal di Los Angeles chi sta? aspetta lo state a base goal di Los Angeles to the long game let's see what they do motivando la foto so it's all here what the Friars got it in the gun what's it there to take them down but I don't say Levi's stadium no they come to the line of scrimmage first down eh, tolto la braccia ma di mattina andiamo col coglione vini andrà il part 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 Che li posso ancora riscrivere, non fai il bambino, c'è un bambino Paolo, ve lo dico. Fai chiamare Federica, Mauro. No vabbè, se vuole fare così, se la vuole mettere dura, poi sono cazzi suoi, voglio dire Uno lo chiama per fargli dire che sta a scherzare Se lui la vuole buttare dura e farci una questione di vita o di morte Dopo ognuno è responsabile delle robe che fa Ognuno è responsabile delle robe che fa Cioè poi sta va a piappare il culo Mattia, mica lui Se non ci arriva a capire io sono cazzi suoi Ma sta va a piappare il culo Mattia, non lui Se non riesce a capirlo è un problema Suo, non mio Problemi penso non a noi Tutti di frenzò And now returning to the field, just two minutes to go And it's a big spot, as we got an offense That would love to increase that lead before the intermission Lord is in the backfield Here we go, Mike, no Second down and eight He's got the catch And Branch is the injured player And we'll take a break Tutti di vai di numero di log, di velerini And welcome back, Daniel Bellini is working on getting us an update on the injury As we return to action The offense is set at the line for the first down after that completion Gold line defense on the field You got to give the offensive line just a lot of credit It's first and goal They just line up and power the football in there Nice run But a great job by the O-line The 49ers for the extra point It's good Pryor's gonna look on now from the sideline That last drive He contributed more than 50 yards in the air They'll take it at the point The Raiders are ready to take over now And their offense heads on to the field McFadden's lined up in a single back formation First down and ten With two hands, he has it Oh, c'è un dito su cosa Oh, c'è un dito su cosa Hi, Connurman Wind Second down coming up The Raiders line up Everybody split out wide From the shotgun Provenire offesione te l'ha fatta, mia parla Che l'avem detto aveva servita calda, giusto? L'avem detto aveva servita calda, vero bene? Eh? Split that field here Pryor's go! Pryor's go! Ah! Pryor's go! Good job by the defense They're well taught Well schooled by the defensive coordinator They know in situations like this If it's thrown short Of the first down marker They're good They come up Make the tackle Now we have fourth down King is back now He'll be punting They're right hands are right They're good They're good They're good And they're good And they're good They're good Of the first down Coming up Can I run theoh? And they're a good In theoh? One day ok, così lo facciamo a pezzi, continuiamo così, ottima, questa traccia non riesco a difendere, certo, mica su Aldo, se una roba funzioni continuo a giocarlo, finché in sé giustano, guarda, presa, dei Lazio Marin, quello simpatico come Donofrio, il quarterback dei Lazio Marin, non lo posso, se lo faccio, lo incontriamo, se ci sta la squadra, quanto quello l'avete? non lo so, fare delle previsioni è proprio difficile, che cosa? fare delle previsioni è proprio difficile, ma previsioni sui corsi o? no, sulla gente, su chi è disposto a aiutare, cioè, che vuole fare la società, perché, io a tuttora ancora l'ho capito, eh, guarda, io dopo aver visto la partita di Perugia sono rimasto, amareggiato e poco, cioè, cazzo andate a far fino a Perugia e fare quelli di uri in merda, ok, sei giorni. un nuovo set of downs, dopo prendere il primo sul sbattente, l'offense linea qui qui. un nuovo sbattente, un nuovo sbattente, avanti al sbattente, avanti sulla linea, la linea 26 di gioco. Sbattente, un nuovo sbattente, e hanno un sbattente, Oh Following that time out offense back out on the field Coming up second down Offense lines up here No no Let's go to the ground and go incomplete on the short game Frank Gore is in the backfield The 49ers No no Fortuna No no We'll catch the game che cazzo facciamo se venga da pensarci il gol si fammi farà sta cosa poi no è troppo forte per allenarsi lui spai che esco ok la sua un play io vado a cena forza Ma si, con la madre No Con il ragazzo Stai in forma Mark Bene bene Ieri tipo, lo prendo un po' per colore Volevo andare a votare queste insieme cose Poi, Paolo, quando vedo un messaggio di sita Stai un po' per colore Quindi ringrazio A Federica che ti metto quello Ti ci do Si si sta Federica Ti da l'inbook Siccome ho ancora cominciato a leggere il libro E adesso è mio analfabeta Gli ho detto che ho anche l'audiolibro Eh? Vabbè, ti metto Ti metto l'audiolibro Si sta ribocciato? Ok Ti do l'audiolibro Che è così È audio E troppo i senti quando non c'è un cazza fa Eh? Gulo, io vi ci sono fatto Io sulla Siclette E su Mente Dormivo La meglio cultura dei libri Ci stavano una serie di libri Si chiamano la Galactic Football League No? Allora, io mi scarico i libri Inizio a leggere Poi scopo che c'è l'audiolibro in inglese Cazzo me ne frega a me E scapisce Oh Me li sono sentiti Più volentieri che a leggerli Sì, sì Eh, negli Stati Uniti va tanto Quelli che stanno in macchina nel traffico O che vanno in metropolitana Se non per i coglioni Sì, sto a trasmettere La franchise Cioè via parola Ho visto la partita Porco due Ringrazio a Dio che non faccio Liatore con voi Ma veramente Cioè più di tutto No, qui è veramente A parte il video Sembra fatto Questa più di altre Questa Dai, questa la devi ammettere Questa è veramente vergognosa Questa la rende vergognosa E in più È stata girata Tipo Dai fratelli Lumi Erano Cioè Nella risoluzione Che manco Se lo disegnavi Veniva così merda Ma poi lo sai che il quarterback Lo chiamano il vecchio Quello di Perugia Vecchio Vecchio Dai C'è una 200 anni Sì Oh che cazzo di presa Ha fatto con questo No, non vuoi che è vecchio Ma perché è giocato Lo gammo Di no No, io ho la febbre Sì C'è proprio la voce da trans No, no Bisogna riconoscire la voce da trans Mark Lui, l'esperto è un minicore No, ma il personale è Mike Faden Porco due Hai sentito Baldonero Quando parlavo almeno Si è fatta la smissione su YouTube Baldonero Baldonero Sul draft dei Ravens Una roba di impallinati Lui sta fatica Mica è come il tema Lui che non fa mai un cazzo La mattina da sera E poi dove vai a mangiare stasera? Che faccio A Risangelo O Rion Che cazzo di stante è O Rion No, che sacco gigantesco A Marina C'è più d'altro Tutti la on Tutti la portiamo Fede, dove cazzo sta Odiente Alla Marina E' lo stabilimento Ah, lo stabilimento Federica, come sta il dito? Bloccato No, no, insomma No, che cazzo si è fatto Ah Marco Ma il tuo fin di portiamo Nel dito giallo Com' sta? Cazzo sta con le gambe di Pryor Già, poi voi state due settimane senza giocare Cazzo di voce da Transver Ma bloccatelo Ma bloccatelo? Vabbè, visto che fai un sport di contatto Un buon casino Ah, poi sabato pure Ciao ciao Va a mangiare il pesce Quindi Emanuele Emanuele Ma pure di riferire Se hai messo se li sanno Che cazzo Ci sta Peter Tedesco tra BMW Ah, è vero Quello che metto Che parlerà tutto strano Ti mola Ma stai compagnando Ma mamma Mettete volendo all'Octoberfest Mettete No Sì Però la birra è a 16 anni, qua non deve arrivare a 18 anni dopo, però. Eh, ma il contorno è il problema, non la birra di per sé. Ti sei andato a 8 per feste? La facevano in base a 8 per feste, non è? Oltre a esserci andato. In base al mio padre, svuotavano un hangar e ci mettevano dentro a 8 per feste. Ah. Sono tornato sempre con il tassi, o non mi ricordo di essere tornato. Sai che posso fare, Federico? Posso scambiare con questi cessi, Kaepernick per Carr. Fambo il Kaepernick. E non ho già fambo il Kaepernick. La prima partita dopo l'infortunio, un td sul lancio, nessun intercetto e uno su corsa. Ma chi? Kaepernick? No, no. Tarle il Pryor. Oh, io oggi comunque ne ho trovato troppo a questo gioco. Ma te l'ho detto che ne ho trovato troppo. L'ho finito, l'ho finito. Cioè, ma faccio... Mi mancano tipo una decina di missi... Una decina di gare e finito il day. Dovrebbe essere così, perché ora c'è scritto una fatta della tabella, 10 gare, e poi c'è scritto che incontrò... Dove che devo ammazzare? Ma c'è fatto la pure la pistola, dove per me. No, no, no. cazzo va preso trai ore 11.3 c'è 121 yard l'ho detto Emanuele c'è ci sono cose che però ho visto che a un certo punto su una corsa non riuscirono a far davanti il running back lui ha spinto tutto il gruppo con la sua botta e tutto il gruppo e cascina avanti e noi facciamo giocare i 50 anni quello si insegna quello si insegna non c'è bisogno quello l'ha inventato lui non c'è bisogno guarda chi arriva Federì oh si è sistemato sopra quella scatola dello sterzo a forza cioè non c'entrava c'è entrata alla fine no dentro no ma sopra ci si è messo non ci entro siamo stati solo io tutta la giornata io e lui a casa tutta la giornata però quando sto mai lo fa sempre che mi si viene associato no buono buono no il tercetto prende Pryor ci sta rischietta io sapevo che non era libero l'ho messa corta li avevo mette sulla testa non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è la sua continua no non c'è continua attrava attrava che era Porro firma mi ha chiesto informazioni su come Rosini abbia fatto portare Giorgio L'infiammazione del tibiale posteriore è difficile trattare perché passa sotto l'osso e raramente si infiamma Non ho capito se perché gli vuole scrivere Aspetta che sto leggendo un'altra cosa E' fatta male in maniera C'è l'infiammazione del tibiale posteriore Dimmi vai Sono a carico durante gli allenamenti che ti ha fatto fa per le gare Hola L'ultima volta a 38 minuti Dimmi Paolo Ma che se come Rosini abbia fatto portare Giorgio Come ho fatto portare se li ha scritto lui E se li ha detto che Allora Eh per chiedermi Come lo fa scrivere o quanti cazzate Niente gare, niente allenamenti Quindi vieni con me domenica Eh non può giocare domenica No, Andrea non giocherebbe comunque Grazie a tutti Grazie a tutti viene con noi durante la domenica dico se poi c'è pure la cosa sabato di sabato il gioco il gioco il gioco il gioco il gioco ha fatto un ragazzo di macchia no? Merceda al semghietti, è tutta unificata no, no, che sacco l'ho preso ma è una buona situazione anche, stai vincendo il gioco, quindi non c'è motivo di prendere la possibilità e prendere il gioco questa volta la cazzo di lato, regino, è ancora finito che siamo in gioco pressione 2 si trova, no, fa fatto sacco si trova? si, si a questo punto si trova se ti vedo lo così grande lato produce, si sniffa, l'aglio fritto, che ti devo dire? secondo me i funghi li smagg vuoi dire che li produce a casa? eh si, infatti gli stai chiamati ha fatto un po' a cazzo no? si, infatti gli stai chiamati per la sua prossima posizione l'aglio è un po' a cazzo no? 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 è lo stesso stadio l'aglio l'aglio è un po' a cazzo no? l'aglio è un po' a cazzo no? l'aglio è un po' a cazzo no? l'aglio è l'aglio l'aglio è un po' a cazzo no? We're going to get a first down. And here we have second down. Two minutes, two minutes remaining in the game. Welcome back, coming out of the two-minute warning here in the final quarter. Second down now. Darren McFadden lined up in the backfield. From the gun. No, guardate, oh, i miei non fanno mai per un cazzo di intercetto. Si capisce com'è possibile. Solo quelli di Ciccio Mai Tai fanno l'intercetto. E vedi che dice Federica, quello è culo. Quella è bravura, via Federica. E' che bravura, no, è culo. Allora, quest'altra monica non c'è mai visto in un bambino alto. Vorrebbe. Poi, dovresti fare meno danni? No. Se c'è culo, è la punizione. Statisticamente qualcosa doveva già funzionare. E' risponente. Nulla è impossibile. Aldo deve mettere il tiracolo. Ho già battuto, secondo me, perché ho già messato l'acqua. Ficcate che abbia fatto solo 14 punti. Tu, che l'ha già fatto per Goyle? Ma che entra la macchina e ha girato qua solo? Io ho preso un dita di 70 metri. Le yardi sono di meno di metri. Si, meno. Quindi mi sembra 20 yardi, se è tipo... 18 metri. Perché non l'ha fatto gioco di desi in oggi? Non lo so. Quello è forte. Mi sa che lui ce l'ha più di 19 anni. Giochi in NFL? Cioè, ha giocato a Vindosani e Camerano? Eh, allora, poi, a seconda delle leggi, non lo so perché non l'ho fatto giocare. Io l'avrei fatto giocare. Più forte del ragazzino, sicuramente. Giochi in NFL? Per quello di Vindosani e giocando, non lo so. Non lo so. Quello che so è che il ragazzetto dei Seaman ha giocato pure negli Stati Uniti. In un high school a 11, vera? No, no, in un high school a 11, una cosa vera. Una roba vera, no? Una cazzata. Eh, oppure non lo so per giocare, ne sai, eh? Rudolf Fena tardi e a fondo No Alla Rolex gli ha detto la sponda A chi? A Devin C'è il titolo di non gli manda Poi è strano, di solito è una feda di giochi di questo tipo Non pagano il cobre a tre notti Poi hanno tutto il cobre Secondo il completo Però nella forza si chiama sempre Raffa A tutti i giochi mi manca sempre il gioco Sempre Raffa si chiama la forza The 49ers from the 32 No And he's tickled down The Raiders are gonna use one of the two timeouts they have remaining To punt the football It'll be a touchback Mi ha amato Andiamo che fuori Ti arrivo all'ospedale Allo Ah? Guarda First down Pressure on every snap now Split backfield here First and ten McFadden on the screen That's a game of six If my madre prende delle droghe io capisco che ho una certa età Ma ieri mica sei uscito Mi ha chiesto Ma ieri ti aveva andato a fare del disco Si ieri non ce l'avevo stati Mi sento la 38.2 Ma mi si è abbassata la voce Ma almeno sto atto si Stavolta non ho dormito Ieri notte manco Cazzo di tosse di merda Ma preferisco quando ti gola il naso No Ma andai So Second down Coming up Time Obviously A factor The rest of the way di nuovo ah intercettato vaffanculo intercetto in caduta uno ha le manure di tonno intercettato un pollo un pollo un pollo un pollo un pollo Sì, abbiamo zero time-outs remaining. And second down coming up. The defense comes out of the dime. And the give to Frank Gore. They break it down at the 41-yard line. They're able to move the chains after that last run. They'll go to the hurry-up here as the clock runs. They're going to get the ball. They're going to secure the handoff. In the end, it picks up only a yard. Hard sometimes, the Hawkins has the coordinator to call and defense against the defense. When you're winning, you're going to play the game. You're going to play the game. No. The defense is ready, nowhere to go. Here's the handoff. Now they take the football on to the opponent's side of the field. 21-7, good. Another vittoria. Ultima a casa. Praticamente ieri, no, no, due giorni fa, quando l'ho iniziato. Praticamente Emanuele Tedria Fido, The Crew. Io porto la vittoria a casa. Praticamente sto a livello 5 quando l'ho iniziato. So... l'ho iniziato... quando... quando... quando ti vuoi? martedì allo mercoledì iniziate giorno dopo mosso a livello livello l'arte 47 rende un nerf senza speranza ma dietro si rimorre devo far lasciare ah si si ma beh frida è morto che stia insieme a con lui Giorgia no? quante tempo è che stanno insieme Giorgia e voi città di cazzo Fedeli? 8-9 mesi? eh un culo ha fatto l'acido allora 8-9 mesi ok sta a posto Rosini c'è l'ottima probabilità ora si contando che sono 8-9 mesi che stanno insieme c'è l'ottima probabilità tu ti ricordi si che tutto questo vi è trasmesso per fortuna che lei non li sente stai roba ah meno male ma poi non mi sei preoccupato me ne ho pure scordato che mi stavi trasmettendo io lo possiamo però sempre indicare oh se ti interessa Giorgia quasi parla di te verso la fine scusi mi faccio un'altra partita tanto che si dice? ok sto un metro da casa mi si chiama anche allacciare il mio scarpa oh la rincia coi si ho x 3-5 minuti e torno ok a tra un po' questo è uno di quelle quartiere che non puoi perdere cioè mi stanno ingurissimi un giorno i tifosi mi stanno un po' sul cazzo ok a tra un po' ok a tra un po' la rincia la rincia su chiama la rincia la rincia Eh sì, sono i miei di divisione, sono la stessa divisione, quindi li affronto due volte all'anno. Per quanto io odi, domani in finale per il terzo posto, Valerio Cuomo premiato come tra Olanda e Serbia, quindi vogliamo beccare l'Olanda e la Serbia. Comunque volevo andare a vedere in realtà le statistiche, sono uscite le statistiche dei Clans. Ancora no, ma ancora ancora. Questo giro però nel loro stadio, nel Budelli. O comunque le animazioni di questo stadio rimane una delle cose più belle del gioco. Adesso proviamo anche se i CTD ci intercetti. Proviamo anche Pryor contro la difesa vera. Quindi, boh. il 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 questo ho 52 uomini addosso lì ha preso comunque 3 yard credo sia illegale in 10 paesi uno così bellissimo bambotta blandissimo hanno ammazzato il pallone direi di bar grandissimo Eric Reid boom si vuol dire on this third down situation no butta di cuore la scala davanti scettacolo give a lot of but it's just too easy for the quarterbacks and receivers the troll get work out of the water a dog the offense is set at the line for the first down after that completion Marshawn Lynch is in the backfield Wilson standing back in the shotgun ready for the snap after 8 and incomplete that time 2nd down coming up 2nd down coming up Miller is usually a tight end but he's in the backfield this time Wilson from the shotgun no no ce ne trova dentro no impossibile la meta in the più debole 3rd down lead you have to pick up 3rd down success with football games good play call good pass good catch now it's 3rd and short I like the offense's chances 3rd down here offense trying to pick up the first and they advance the ball over the other side of the field so many times you watch football games and coaches just give up too early on the run game after that one decent pick up by the running back after that one decent pick up by the running back after that one decent pick up by the running back play number six coming up on this drive offense lines up here first down and ten Russell Wilson hits Zach Miller with that throw well they complete the pass Jim but doesn't get the first down sooner or later you gotta throw one down the field the offense heads to the line for the seventh play of the drive the offense heads to the line for the seventh play of the drive it's lined up now as a slot receiver Wilson with the give which is never able to build up that power so no running back when there's nowhere to go there's nowhere to go there's nowhere to go that's a short game it'll be third down good it's a good one we have away from the third down we have away from the third down they get pretty fired up but when you sack the quarterback on third down that is one happy and emotional defense right now they're in punting formation I'm out give me back top there's a card he's going to be leading the offense to this he's going to be leading the offense to this this is the final game the fourth down he is going to go by the very first down he said yes he's playing the first down he said he said the third down he said yes he said yes habilidades he said he said Mi ha detto, eh, per il momento Giorgia, ah no, mi ha detto per come stanno andando le cose, Giorgia. Ah beh, uscivo tutte e due, cazzino, mi prego. Tanto uno lo vuole come amico, l'altro c'è il guaglione. Per il momento se la gioca così a meglio. Perché, ma è to che Giorgia di scrivere dal lunedì con le scuse. E' te lo io ne ho sito mai, lei non si vede dal lunedì. E gli ho detto di chi doveva scrivere. Perché si accorde e usce insieme. Ah, ma... Aspetta, che resiste a credere? No. In che senso? Ma mica... Ah, è vero che ha detto che se non c'era il guaglione a Lorenzo ci faceva un pensiero, mica non è vero. L'ha detto anche più volte. No, no, l'ha detto anche più volte. Testimone Fede. No, che già è detto a posto per quella, di quel cazzesco. No, no, no. No. Non c'è un allenamento. Vai a pranzo a cena. Dici che è venerdì prima della partita? Noi eravamo... Venerdì prima della partita loro erano in quindici, quindi, dice Emanuele. Vai a mangiare con Emanuele, no? Che mi chiamo Krebs, sta a dire... Oh, parlaci tua, diggielo. Beh, vedi sta cuffia e insulta un po' Emanuele. Russell Wilson ha l'interno di centro. Lynch va a prendere la mano ora. Game 5. Power running. Molte squadre in questa squadra non ne faccio mai più più. Questa squadra, possono power up in there and pick up those tough yards. Fai ancora un po' di esperienza, capito? Sì, andiamo insieme, però io mi aspetto, penso, a sezione di Pescara, perché non so' a casa. Capito? Non mi capo, non la stava per l'arca, so. Chi? Rosini. Rosini non ce l'ha stata per l'arca. وتà, che conania di presto, per l'arca. È già in fronte, è ma sta per l'arca. E' la pausa, è già in fronte. L'arca di Cagliari, che c'è la pista per l'arca. Cagliari che proclame. Ma guarda sul piano. La pista è giù c'è la pista per l'arca. Ci arriva a scrimmage, 1st down. Frank Gore is in the backfield, handoff made, he's brought down at the 23-yard line. That was a power running play that time by the offense and picked up some good yards, nothing like it. Show the defense you're willing to get in there and slug it out and get some tough running yards. Second down and two to go after the running play. Split backfield here. Lyons taking the handoff. He's brought down. Hyde, it's a great running back to have on your football team, isn't he? He goes up in there and gets the first down. Now your offense has three more chances. We're through one quarter and we'll take a short break as you're watching the NFL on EA Sports. The NFL on EA Sports is brought to you by Papa John Pizza. The 49ers still driving as the second quarter gets underway. New set of downs now after picking up the first on the ground. The Seahawks defense brings in an extra member of the secondary. They'll go nickel. So when after the line is on for coach, I don't like him. Oh, no! First down here. Eh, I'm going to see him. Oh, yeah. I'm going to see you. And the second quarter is underway with this. No, intercinct. Mi scordo, sembra che questa è la miglior secondaria della Lega Sto appena punito, la miglior secondaria della Lega Sì, va bene, voi siete d'accordo se devo subire Non mi consola molto Tiato, l'altro intercetto è che la cosa è risolvissima molto Quando è molto attaccato ai miei pacchi, porca croia, cosa ti brutteggiano? Il giro, il giro è un giro E' un giro, è un giro, è un giro Non è non va fare un giro, ma è ancora un giro un po' 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 un e la 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 and they get to them at the 45 3rd down now the Seahawks defense now is going to go nickel that will put them in what we call plus territory eh si ma se i giochi sono fatti con lo sterzo se no cioè non ti si riesce a regolar più da altro e si no e sce e sce e sce e sce first and then don't get the right thing just take the sack after that sack it's now second down at 17 is in the backfield the 49ers at or near the top of the league in rushing yards this season and he's getting it done again today i'll tell you why he's getting it done again today because up front he's got a bunch of road graders and they can move people out moving around and they are running the ball once again very well offense lines up here third and twelve no 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 he's going to have to go to the prior yes no no you're going to have to throw them in the bag if you don't get in the bag if you don't they can cook they go tomorrow 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 delle cucine domani. Emanuele, quale c'è ne vuoi qui? Se è solo lui. Sono sacramento! Mi tolgo? C'è i decimi, c'è i decimi! Fai un cazzo, non mi piace. Vieni là, incontri... al duccio. Eh? Sì, vieni là, all'arco, si incontri al duccio. Che cazzo mi ha scritto? Ecco, quando ho amicizio dell'americano è troppo bello. Che cazzo mi ha scritto? Non ho visto. Che cazzo mi ha scritto? Che cazzo mi ha scritto? Che cazzo mi ha scritto? Ciao. Good, good vestibule ha scritto GUD. Vabbè, si può essere tipo abbreviato. Beh, è tipo americano ho scritto. Sì. Vedi sì, vabbè. Ma tu ti hai scritto qualcosa prima? No, l'ha scritto lui. Secondo me quello è frocio. Perché che cazzo? Eh, good looking out, cioè che stai... che ti vede bene. Bene. Sì. Grazie uomo. Thanks man, grazie. Come se gli avessi scritto qualche altra cosa. Lo sa sbagliate. Come si risponde... Come si risponde... Niente, lasciượ. No, vedi, vedi gli andi li fanno. E che ne so che ti vuoi dire? Ne so, nienti, YouTube. Come si risponde. Come si risponde? Come si risponde. Questa, la crenzione americana, io, io... Ci sono spettando un po' di freddoore, a parte. Guarda, lo stai spettando, incredibile, o dove c'è inizio. un'altra cosa bene dei crisi, quando freni i discidi freni diventano rossa 3,47, 48, 360 360 360 360 360 360 360 360 second down here after that one play 250 360 360 360 360 360 steve 360 360 360 offensive poi leggermente 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 era solo un po' dopo che andare a dire Benito Vittorio si chiama lui chiede Emanuele per quel motivo il parista medovicis e fascista eh diciamo che... ah ecco qua ci ho fatto detta foto del football si quella la potrebbe mettere giusto? oddio il seahawks è stato il ferro che mi ha chiamato grazie nooo, per fortuna grazie grazie Il tackle è made e che è un 3 e out per l'offense e che è dovuto per l'inizio per l'inizio del 1o half di l'Emerald City per la seconda half in Seattle after the break This is the Verizon Halftime Report I'm Larry Ridley Let's get ready now to take a look back at the first half Both the Seahawks and the 49ers are having some issues finding a way into the end zone They'll hopefully improve their play on offense and pick up some touchdowns in the second half All right, let's get it going O meno 4 in passing yards The Seahawks with the football early in the first Here we get a quick pass at the police and that connection will lead to a table for up to the yards Cox is going to run this one out Ciao, un enda capernicchio No No Lascia che ti chieda una cosa Mierchi Vuoi scherzare? Schimdi mi ha portato dietro E noi allora la patroa E ora siamo noi inizio mi ha guadagnato con una corsa 70 mila Che cosa non mi fa cambiare mo' Vediamo un po' che mi fa cambiare adesso C'è un problema Che problema? L'estima del Lander ha fatto il lavoro a Karen Si, guardate però stasera Ah, tu non ci stai Hai avuto un problema, si Gli potrebbero usare il culo Ok, c'è il progetto Caperni Marottono We've got a player down So we'll step aside And we'll back in just a moment Nicole Formation For the defense here The 49ers Nappen at the 31 Balls on the ground Fatto 8 football C'è un cazzo è possibile Appena andato Fatto un football Che l'ha fatto? Si Non ci si crede Vole che l'altro Siamo ottimata? Si Gabbert è proprio scarso Allora Ecco L'ombro del Farrato E' un po' incredibile L'ottimo vizio è più pertinente Quando faccio Andrea Gianni A inizio anno Non mi ha fatto di niente Inizio se hanno fatto qualche aggiornamento Ha fatto molti fanno quest'anno Si Loading up Loading up with extra defensive backs In the defensive line Growing out to his left Steve Johnson hauls it in Big first down by the offense that time Here in the second half They're losing a close game And you get that first down It just gives you confidence It opens up the playbook And it just gives you a better chance Of going down the field And getting score First and ten And the give to Frank Gore Now they take the football On to the opponent's side of the field Nice run that time You run a long super north Over a period of time It's gonna wear that defense out There's no doubt about it Nice job on the offensive line Second down here Split that field here The 49ers line up Split backfield Kaepernick from the gun Looking across the middle Underneath But can't find the mark That time As the pass goes in That's the site On the way Third down Ward is in the backfield Kaepernick takes it From the gun Behind that left side And Crabtree's got the catch And the first Well I think we all know The situation here It's a close game In the second half And you're losing But you pick up The first down Oh my gosh That opens up Many more possibilities What you can do On the offensive side Good job By the offense Thomas is gonna make the tackle What that run does It just puts the offense In a good situation So a good Positive run It's now Second down Ellington In the slot The 50 50 49 Good job That time Moving the chains Picking up That first down And Jim Of course There's no time To panic In a situation Like this I think they know But in the second half You've got your You're down Just a few points Just keep looking For ways To get another Nooo Che intercetto Lanciato No Prendo And John Dei fortini Dei Dei Seaux Sono nella mia divisione Mi tocco Due volte L'hanno And it led To an interception First down Here Wide receivers Stacked up On display Wilson From the shotgun Makes the reception And Matthews Is marked down At the 34 That's what you want To do Get a first down While you're on top And keep that Clock moving And just controlling The football game Good job by the offense Managing things So far here today Russell Wilson Has it under center First and ten Hand off Slashing To the right side And that's a big time tackle That keeps them Three yards short Of the first down marker That'll be second and four After the running play From the shotgun Non si è fatta a rompe da Non si è fatta a rompe da Soprano 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 Un grau Bisogna Fatti giochi Non li sa fare T'ho detto io T'ho detto io T'ho detto la fine Ci vediamo adesso E andiamo a A sparare a quei coglioni Adesso No Io adesso L'ho Soprano 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 Raffreddero 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 Soprano Soprano Aspettando Soprano Brava Brava Bravina Buon attento Prova a vendiare Buonissimi Guarda L'altra idea Che me l'ha venuta Che ci prendevamo Diablo Soprano Però quello No Io c'ho paura Perché Il disoprano La notte Non è vero Ma chi ha saputo Il burro Sì Vabbè Paura Che qualcuno Gli rompe Il culo Di scacciuccio Nel disfogliatore Guarda Mi hai Speriamo Non mi metti Mi damrò Il culo Non mi ha risposto No E' l'altro intercetto Ha lanciato Ma porco Due Corri Ma come cazzo Ma come cazzo Si fa Tu Cianzello Ma capernicchio Sei veramente Una merda Cioè Però non è che Ho sbagliato L'uomo E poi è andata Oltre la palla Allora Segna Marshall Lì Giobbendo 13 blocchi Di fila Nel frattempo Io se faccio Ritolgo Cavernica Aranciato Per 61 Yard E 2 TD E 2 Intercetti Vamete 4 su 7 Per 61 Yard E 2 Intercetti Ottimo Stats Buonissima Carmi Che primo giro Non è vero stato No No Un secondo giro Che cosa stava Nevada C'era il college C'era il nevada Dove si giocava Una offense Abbastanza particolare Ma stai ancora La trasnetta Sì sì Eh faccio Un super puntatore Da 2 ore Non c'è la voce di Federica Eh? Ti si manca la voce di Federica Eh lo so Non col campionato And a score Gets out past the 20 And brought down At the 24 First down all the way And crabtree's lined up in the slot Ah Rotto Sherman Eh forse rotto Sherman Sì Tac 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 25 Riccio a Sherman Riccio a Sherman Oh my gosh It makes you shudder just for a second Let's hope it all works out Offense lines up here Wayne Gabbard in shotgun formation To Davis Taken down at the Sherman Quando hai nevi contatto C'è ancora così oggi? Eh Del rookie year Un altro anno Ah Non c'è ancora da Rudy No C'è quello Quattro anni Contatto Cinque Quattro Ma lui si è draftato Alla prima Gira? No Terzo giro È fortissimo Eh succede C'è una frega di problemi Tu consideri che il 2009 L'hanno trovato positivo O del 2010 Vabbè Comunque l'hanno trovato positivo Alla TID Allianzic Drugs E lui è riuscito a farsi assolve Perché loro A Perché il suo avvocato Ha stabilito Che la NFL Aveva gestito male Le sue provette Non che non era negativo Vido? Quindi C'è uno che si droga C'è posta giusto E se hoax Ah boh Non è droga droga Quella Sì Lo fai per migliorare le prestazioni Però Ti spuolificano uguale Ed è bene Più severe Per Nei Nansic Drugs Che per le Quelle ricreazionale Con la marijuana Con la marijuana Chi era? Josh Gordon No Vic Coltani C'ha avuto problemi No Josh Gordon Dei Browns C'ha i problemi Con la marijuana Mi si è perso Un altro anno Quella ha dato Possibile Tre o quattro volte No C'è un po' L'ho libero Colpa mia I like what they're doing On the defensive side They are hustling so much And when you hustle You get more defensive players Around the football And that's how you cause turnovers Trying to beat the play clock Snap it out of the gun And that's time Since all those had to play Again when you get in these situations There's not much you can do Third long Not easy to pick up first downs In these type of situations The kick is good The kick is good From downtown Never take him to the game Trying to feel goal A lot of things could go wrong But good execution at time And a good kick Three points At the touchback And the ball will be spotted At the touchback It's 1st down as they head to the line. Russell Wilson has it under center. Wilson's got the 1st as he's brought down. Well, here we are in the 2nd half of the tight game, and you always hear this control the table of the game, just move the chains, and that's what the offense did that time, picked up the 1st down and just keep marching from here. Coming to the line, hoping to avoid being sacked for a 3rd time, charging ahead, and again the 1st down. Here's an offensive line, and you can line up and just run the football straight ahead and pick up those kind of yards. You are going to get into the head of the defense. You're basically saying we're tougher than you are, and we're just going to come right Lynch is in the backfield. 2nd and 6. Lynch running to the right, and 8, maybe 4. Yeah, we're definitely playing the left, and in the mid-range, and a big derby. Yes, I'm not going to get the ball. But once in Los Angeles there were 2 players there were two players. They were not even in the Rams. No, they're still playing the league. No, the defense, looking for one more stop. Yeah. No. 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 San Luis. Si è una bella besina. Ci ho visto massacro. Poi posso perdere George Freeman in free agency. Rilascio Gabbert. About here after the run. Mazzle. Coming to the line, hoping to avoid being sacked for a third time. Cooks there to make the tackle. As we look at the matchup and running back, hard to find fault in anything. Either one of these guys has done today. Yeah, this is unique. This is fun to watch. You've got a close game, and usually at this time we go, well, it's going to come down to the quarterbacks. Well, not today. E' come down to these running backs Seahawks snapping at the 41 Ryan Plough ahead E' tackled some 3 yards away from a first down Oh a short gain on the run that time by the offense When you're a running football team Listen there's going to be a lot of ugly plays that don't work You just got to keep running Back now here in this one Defense really needs to find a way to get the ball back to its offense As we just got the 2 minute warning over with After that last carry It's 3rd and 3 Coming to the line Hoping to avoid being sacked for a third time They want to keep feeding him the football It's a first down This is turning into quite a drive, Bill Nice job, Jim, by the offensive coordinator Just mixing the plays up And keeping the defense off balance The offense heads to the line For the 7th play of the drive Two tight ends on the field here First and 10 The run with it again That's a gain of 8 The Seahawks have frustrated opponents all season Running the football They've been almost unstoppable Lynch has been a threat on the ground And continues to rack up yardage Ben Tremendous once again today And look, let's look at this running back He's got legs of steel He can break tackles He can run around you That's why this running game is so good Right back to him One more time The Seahawks offensive coordinator He has to be frustrated by that frame I think he calls the right place But what happens to run Losing guards That's just a bad job That's a lot That last play was a run Fined up Averse Averse Part of the ice, that's That's what I'll do Succede Grazie.